Boss emergente in casa propria, killer spietato, soprattutto in trasferta. E il 26 settembre del 2016, davanti al procuratore aggiunto di Catanzaro, Giovanni Bombardieri, al PM Antimafia e Due Romano, Andrea Mantella racconta un nuovo capitolo della sua carriera criminale. Praticamente il mio cognato era Pasquale Giampa, il fratello del professore, è stato ucciso diciamo. E proprio in ragione del rapporto di affinità con il più potente casato mafioso Lametino, l'attuale gola profonda che potrebbe mandare all'ergastolo decine di ex sodari avrebbe sparato per uccidere più volte e avrebbe compreso e saputo anche perché altri uccidevano. So che ad esempio Vallelunga e Roccanello gli facevano dei favori a Iannazzo per fare degli omicidi sulla Mezzi e Iannazzo andavano nel Vibonese a fare degli omicidi per conto degli Anello e dei Vallelunga. Riempie fiumi di Verbali, in gran parte omissati, che riportano all'origine della guerra di mafia tra i Giampa e i Torcasio, sulla quale il clan Iannazzo non si fece scrupoli e soffiare. Una guerra di mafia nella quale cadde appunto anche il suo cognato Pasquale Giampa, sospettato di aver avuto un ruolo nell'omicidio di Giovanni Torcasio. Invece il mio cognato in realtà non c'entrava niente su questa situazione qui e i suoi fratelli hanno poi chiamato uno di Siderno per farlo eliminare, questo cognato mio, a pagamento. Si tratterebbe dello stesso sicario del clan Cataldo di Locri, già condannato per un altro omicidio eccellente e consumato alla Mezzia Terme, quello dell'imprenditore 71enne Antonio Perri, assassinato il 10 marzo del 2003. Pietro Comito per la Cineus24.